Terza parte della nostra segna sportiva, continuiamo a seguire le principali notizie, torniamo online, torniamo alla pagina del Corriere dello Sport per vedere come appunto viene celebrato il 17esimo gol di Edin Dzeko che insegue il titolo della Scarpa d'Oro, dice però manca ancora molto, l'attaccante parla anche di Scudetto, giochiamo una partita alla volta e non pensiamo ad altro, sono 17 i gol in campionato, 24 quelli stagionali, la doppietta importante che ha aperto e chiuso la partita contro la Fiorentina, quindi incidendo maggiormente più di altri in questo contesto Edin Dzeko si dice soddisfatto, è sembrata una vittoria facile ma non lo è stato, ci hanno anche messo in difficoltà nel primo tempo, non era facile reagire dopo la sconfitta con la Sampo, gli chiedono dello Scudetto e della Scarpa d'Oro, vedremo, ci sono ancora tante partite da giocare, naturalmente per Edin Dzeko questa è senz'altro la stagione più importante in assoluto, basta vedere i numeri, Edin Dzeko con 17 punti e 17 gol è tornato ad essere il capocannoniere, davanti allo strepitoso Dries Mertens che ha 16 e anche a giocatori del calibro di Belotti, Guaini, Cardi, Immobile e il giovanissimo Simeone, una delle scoperte di questa stagione, sono 24 in stagione, insegue naturalmente la Scarpa d'Oro ed è in compagnia di giocatori nel calibro di messi a livello di prolificità stagionale, una svolta dopo la stagione in chiaroscuro dell'anno scorso, ed è in chiaroscuro ancora la vicenda stadio della Roma e per l'ennesima volta ne ha parlato l'assessore all'urbanistica della capitale, Berdini dice accelerazione, sì, il club inizia a capire, non c'è un pregiudizio, pensiamo al futuro della città, lo dice a Rai News 24, la Roma inizia a capire che da parte del comune non c'è un pregiudizio, c'è un ragionamento sul futuro della città, dice Berdini, che però si trova in una situazione complicata, complicata anche a livello di comunicazione proprio in queste ore, si è parlato sia di stadio ma anche delle tante questioni che riguardano lo stadio della Roma, ma anche lo stato di salute della stessa amministrazione, per quanto riguarda lo stadio nel concreto ne ha parlato anche il direttore generale Baldissoni della società di Trigoria, dice siamo ottimisti, mentre il vice sindaco Bergamo dice via a tavoli tecnici, perché è nata scena proprio ieri e proprio presso la sede dell'urbanistica, un incontro durato un'ora e mezza per parlare del nuovo impianto del club, filtra ottimismo da entrambe le parti, ci si aggiorneranno in settimana, Baldissoni dice che lo stadio ne vogliamo farlo e lo vogliamo fare insieme al comune nel più breve tempo possibile, il vice sindaco Bergamo spiega che da dopodomani, ovvero da giovedì, ci saranno tavoli tecnici che esamineranno tutte le questioni, non soltanto le cubature, siamo comunque ottimisti, come si è espresso anche De Vito e lo stesso Berdini, dicendo sapete benissimo che lo stadio lo voglio fare, quindi evitate di dire bugie, anche tornando sul famoso tweet di Francesco Totti e la risposta di Virginia Raggi, e poi lo stesso Berdini in queste ore si è trovato nel caos per una sorta di articolo pubblicato dalla stampa, nel quale è emerso una sorta di virgolettato contestato poi da Berdini, nel quale l'assessore avrebbe detto che la Raggi è impreparata e dall'inizio si è circondata da una corte dei miracoli, una situazione complicata da gestire nel Campidoglio che rientra in un impasse un po' più ampio, che sta toccando i vari argomenti legati all'amministrazione. Per quanto concerne l'aspetto strettamente calcistico sportivo e lo stadio, abbiamo visto proprio dopo la gara contro la Fiorentina, Francesco Totti su Facebook ha risposto ancora una volta al sindaco di Roma, Virginia Raggi, dicendo sarò felice di incontrare la sindaca per brindare al Via Libera per lo stadio, ecco nello specifico alla lettera del capitano che si dice appunto contento dell'invito, magari proprio per brindare al definitivo Via Libera per lo stadio che ne sono certo, scrive Totti, arriverà al più presto. L'Iter però lo seguono i nostri dirigenti che sono preparatissimi e sicuramente più qualificati di me per entrare nel merito della questione, personalmente spero solo che lo stadio si faccia e al più presto per il bene della Roma e dell'intera città, ha detto il capitano della Roma. Nel frattempo la Roma continuerà a giocare all'Olimpico, dal quale verranno eliminate le barriere per la gioia di tutti i tifosi, non soltanto quelli giallarossi ma anche i biancocelesti della Lazio. Qui siamo sul tempo che con lungo approfondimento analizza la tematica, dopo l'incontro avvenuto appunto presso le sedi amministrative del Viminale, alla presenza di Baldissoni e Gandini per la Roma e di Lotito come presidente della Lazio, c'era anche il ministro dell'interno Minniti, il ministro dello sport Lotti, tutti si sono riuniti per trovare una soddisfacente visione comune. Da un comunicato ufficiale si è appreso come sarà il capo della polizia, Gabrielli, a stabilire la data della rimozione delle famigerate barriere, il tutto in tempi relativamente brevi. C'è da capire se verrà primo o dopo le gare di Coppa Italia, la sensazione secondo diversi interpreti è che possa esserci questa rimozione dopo le gare della Coppa Italia, uno in programma il primo marzo, l'andata, in ritorno il 5 di aprile, quindi ci potrebbe essere un finale di stagione con finalmente le due curve non più intramezzate da queste barriere che ricordiamo vengono eliminate durante le gare di rugby e poi riproposte per le gare di calcio. Nel frattempo il campionato prosegue ma arrivano tante e proseguono tante polemiche anche su altre piazze come ad esempio quella dell'Inter che dopo aver perso anche di misura contro la Juventus grazie o a causa, a seconda delle interpretazioni, della gran rete di Quadrado e anche contestazioni arbitrali con presunti rigori non concessi e poi le squalifiche di Perisic e Icardi, l'Inter potrebbe perdere anche per infortunio Brozovic nel frattempo arriva anche una voce da lontano, dall'Inghilterra, ovvero quella di Mazzarri all'Inter troppe attese, il quinto posto era la giusta dimensione, il tecnico di Watford dice qui per mettere in discussione, ovvero in Inghilterra. Il Napoli invece può farcela con il Real e naturalmente si parla tantissimo di Inter in questa lunga intervista nella quale lui dice che il tempo è stato galantuomo all'Inter c'erano molte attese come lecito in un grande club come l'Inter ma in quel caso il quinto posto era l'esatta dimensione dell'Inter di allora in qualche modo sembra essere una stilettata a quella che è l'Inter ancora attuale che non riesce a trovare continuità di risultati dopo anche una lunga scia di vittorie con la cura Pioli adesso un rallentamento, un Inter che tra l'altro perde anche Brozovic alle squalifiche doppie due turni di Icardi e Perisic, si aggiunge l'infortuna del Croato che salterà Empoli e Bologna è con molta probabilità anche quella con la Roma tra due settimane Brozovic una pedina importante nel tassello tattico di Pioli e che però potrebbe stare ai box però c'è anche la dire che l'Inter è in crescita a livello societario con l'ingresso di Suning con Torir che esulta perché con la cessione a Suning la plusvalenza è di quasi 30 milioni grazie al passaggio di proprietà del pacchetto di maggioranza una crescita di capitali che fa capo anche a una potenzialità economica evidentemente significativa la Unia Inter che viene andata molto attiva sul mercato e anche in prospettiva futura in prospettiva immediata invece c'è il Milan dall'altra parte della barricata, dall'altra parte del Naviglio c'è un Milan che perdona Bacca e che appunto tornerà a titolare con la Padula ancora fuori in questa gara importante contro il Bologna sostanzialmente un bivio per il Milan per capire l'esatta dimensione del club dopo la lunga ottima prima parte di campionato mentre invece la Juventus contro il Crotone abbiamo detto potrebbe fare il record di punti dal 2006-2007 contando anche la stagione passata in Serie B un record di punti che andrebbe a inseguirsi e a mettersi in coda ai tanti record che la Juventus sta mettendo insieme in questa lunga fase di vittoria noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione quindi non mi resta che rimandarvi alle prossime edizioni della nostra assegna arrivederci a